Lombardi, ciao benvenuto Leopoldo benissimo grazie anche la tua presenza facciamo vedere il premio, buonasera a tutti un premio bellissimo rappresenta Euterpe la Dea della Musica quindi di buon auspicio per tutti quanti loro sono stati tutti bravi e per la vincitrice di questo premio e che possiamo dire il nome sì un po' di saspera premio AFI a Chantal Saroldi Roberto Giannoni titolare di Radio Stop una radio importantissima per la nostra costa devo fare strada perché nel backstage c'è bel movimento sempre vestito in maniera molto giovanile e sportiva questo vorrebbe dire che sono vecchio devo cambiare il modo di vestire no, anzi, anzi dai la giusta carica al settore grazie Roberto settore musicale Radio Stop premia Giacomo Riggi complimenti il premio della critica è stato assegnato a Giacomo Riggi complimenti Anna Maria Dubaldo Anna Maria Dubaldo non ho fatto in tempo a fare una targa ma ci ha scritto con il cuore quello il motivo per cui verrai da noi in studio vorremmo arrangiarti chiaramente gratuitamente il brano che è suonato stasera per bene proprio con le batterie che tirano delle belle pacche e spero che farai parte del nostro gruppo in futuro con il nostro presidente di Fiofa e nelle manifestazioni e magari perché non ci aiuti anche a scrivere un po' di canzoni agli altri artisti della nostra etichetta discografica sarebbe una cosa bellissima grazie grazie Mario grazie seconda classificata Valentina Catturelli e vince il Golden Disc 2010 per la categoria Giovani Amina Sandrini nuove proposte terzo premio a Tiziana Sinagra sempre categoria nuove proposte secondo premio a Sara Scassa sempre categoria nuove proposte primo premio a Chantal Saroldi Chantal vince anche il primo premio del Golden Disc 2010 categoria Emergenti terzo premio a Federico Bulletti accompagnato accompagnato al pianoforte da Riccardo Rossi hanno cantato senza la base musicale dal vivo secondo classificato categoria Emergenti Emiliano Mascagni con Giorgia On My Mind mentre il primo premio categoria Emergenti Golden Disc 2010 va ad Arianna Bellinaso accompagnata al basso da Furio Vigi complimenti per la categoria adulti terza classificata Silvia Cerrettini complimenti comunque la dedico a Valentina che ci ha creduto perciò son felice così secondo classificato Oscar Ferrara Oscar Ferrara viene da Milano già interpretato un suo arrangiamento di over primo premio della categoria adulti va a Donatella Del Corvo complimenti Mattella ha cantato at last benissimo allora Serena concludiamo questa grande serata abbiamo ascoltato tantissimi talenti la giuria ha segnato i premi noi siamo orgogliosi di aver dato questa possibilità ai giovani e che dire noi vi ringraziamo e vi diamo la rivederci alla edizione 2011 buonanotte a tutti buonanotte a tutti grazie a tutto lo staff tecnico che ci ha seguito grazie 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 grazie